Ciao, ecco un nuovo episodio di Pillole di Grammatica. Oggi è il turno del verbo venire. Venire è un verbo della terza coniugazione, perché finisce in ire. È un verbo irregolare. Vediamo insieme le sue forme. Io vengo, tu vieni, lui lei viene. Noi veniamo, voi venite, loro vengono. Alcuni esempi. Vieni al cinema con me? Noi veniamo dall'India. Olga viene a scuola in bici. Vediamo alcuni modi di dire. Non mi viene in mente, significa non ricordare. Venire al mondo significa nascere. Venire al dunque significa trovare una soluzione. È tutto. Ciao! 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 Ciao!